Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, io sono Angelo Faris e sono un tecnico del suono e sound designer. Sì, lo so, lo stesso maglione degli ultimi due video è che lunedì mattina li sto registrando tutti di fila di Aluidit. Cambieranno prossima settimana i maglioni, va bene? Ok. Boh, oggi proviamo un format nuovo, non vi devo dire che cos'è, perché probabilmente l'avrete già visto tra la copertina e il titolo. Oggi parliamo, o almeno proviamo a parlare un po' di sound design, eh? Ok? In questo nuovo format vorrei portare serie, film che reputo siano particolarmente interessanti dal punto di vista suono e sound design e costruzione di Soundscape e proviamo a parlarne, ad analizzarle, a vedere cosa hanno fatto persone ben più studiate di noi. Vocabolario di base, polei sono i rumori di interazione, Soundscape è il panorama, il Soundscape è il panorama sonoro, quindi ciò che circonda è l'ambiente, sound effects sono i rumori di Riser, quelle robe lì, insieme fanno il sound design, ok? Vocabolario di base. Ho fatto una cosa brutta, che è stato scaricare la seconda puntata di The Last of Us. Non si pirata la roba, io lo sto facendo solo a titolo didattico, dopodiché mi raccomando, se volete vederla, pagate l'abbonamento a SkyGo, a NautiV o a chi che sia, per poterla vedere in modo legale, supportiamo i creatori, supportiamo gli abbonamenti. Detto ciò, ho fatto questa davvero vasa specifica, io non posso analizzarvi la puntata su NautiV perché se non mi becco lo strike e siccome non sto facendo niente di male se non elogiare il loro lavoro ed è pubblicità gratuita, ok, va bene, d'accordo, quindi entriamo in sessione, ma prima di andare avanti col video, iscriviti al canale, like e commento, commenta dicendomi che film o serie tv dovrei analizzare da un punto di vista sound design, se c'è qualche cosa, qualche film che, non lo so, ritenete particolarmente efficace, particolarmente interessante. Giù nei commenti, io sono aperto a tutto e se non li ho visti li vado a vedere e poi ve li analizzo. Vediamo di analizzare un paio di punti che ho visto, uno era intorno al minuto 21. Allora, una scena che mi è particolarmente piaciuta da un punto di vista sound design è questa. E ci sono diverse cose interessanti da notare in questa scena, prima di tutto non c'è la musica. Quindi abbiamo totale possibilità di poterci concentrare sul sound design. Se andiamo ad analizzare in modo un po' più schematico, notiamo che ci sono diversi layer. Ok, qui c'è la musica. Inizia la scena. Musica, che potremmo definire extra-diagetica. Extra-diagetica vuol dire che non è musica messa al... cioè non è in scena. È soundtrack. Extra-diagetica vuol dire fuori dalla scena. Diagetica vuol dire in scena, poi c'è diagetico in, che è inquadrato. Diagetico out, che è fuori dal campo di visione dello spettatore. Musica extra-diagetica. E poi, successivamente, c'è un passaggio in diegetico. Quindi viene giustificato e mi fanno vedere che è una rana. Ok, questo è un passaggio da extra-diagetico a diegetico molto interessante, che ti giustifica un determinato tipo di suono. Dopodiché, ci sono diversi layer di riverbero e di suono. C'è un layer che è quello che abbiamo in faccia. Però c'è anche un layer molto più lontano, che ha un riverbero diverso, ha un riverbero molto più medioso, mentre questo tende ad avere un riverbero molto più basso, perché probabilmente in questo contesto, essendo una stanza molto grande, tendiamo ad avere una predominanza di basse frequenze che ci avvolgono per via del riverbero, per via della distanza fisica dal soggetto, perché le basse frequenze hanno... tendono a dissiparsi più lentamente. Le papere. Le paperelle. ci hanno un riverbero... tende ad essere sì estremamente coerente, però tende comunque a diversificare. C'è un lavoro di minuzia fatto in questo... in questo tipo di lavoro molto interessante. Dopodiché, loro iniziano a parlare. Come fai a sapere cos'è? Mai sentito parlare dei libri? Qui le voci sono abbastanza asciutte. Qua iniziano ad esserci un po' più di riverbero, perché la POV dello spettatore, in quel momento sta guardando la stanza, non sta guardando loro. Guardando loro, l'ambiente è piccolo, non c'è tanto riverbero. Ok? Girando la POV, invece... C'è più riverbero. È coerente, è giusto. Vedete che ora di nuovo è piaciuto? Riverbero. E in tutto ciò ci sono ancora diversi layer di Soundscape che vanno ad immergere... a farti immergere. Continuando a guardare su questa scena qui, possiamo notare che tutta la scena è costruita a layer sonori. Ok? D'accordo? È davvero disgustoso. Hai un ambiente in faccia, che sono le goccioline che scendono, i suoi passi, il rumore delle paperelle. Poi hai un ambiente lontano, che è quello verso cui stiamo andando, quindi una stanza magari un po' più lontana, sempre allagata. In un ambiente simile, ma comunque lontano, e che devi giustificare in qualche modo per creare comunque questo... quest'ambiente grande in cui i personaggi si muovono, altrimenti perderesti probabilmente di pathos, perché un ambiente piccolo non spaventa, un grande sconosciuto spaventa. I layer, ragazzi, sono importanti. Faccia, medio, lontano. Asciutto, medio, riverbero. È l'unico modo per creare una certa sostenibilità e una certa credibilità delle vostre scene sonore. Una delle cose che più si è detto di questa serie è che è incredibilmente immersiva. È vero, sono d'accordo che è incredibilmente immersiva, ma bisogna capire perché, per poter sfruttare le cose. Immersivo che cosa vuol dire? Vuol dire che ti tira dentro. Immersivo vuol dire che non hai elementi di distrazione che vanno a interrompere la sospensione dell'incredulità. La sospensione dell'incredulità è quell'accordo fruitore-opera per cui io, in quei 60 minuti che sono impegnato sul tuo prodotto, decido di crederti. Decido di credere che quello che vedo è vero e decido di essere in quel mondo lì. Se io inizio a notare una serie di errori dietro l'altra, alla fine non riesco a immergermi. Se invece tu mi dai un soundscape così coerente, senza la musica, in modo che io possa concentrarmi pienamente su quello che sto sentendo, sulla storia che mi stai raccontando, diventa molto più efficace. Sembra una puttanata quello che vi sto dicendo. Lo so, dite sì, ma la gente si concentra sulle storie. È vero, ma le storie non devono essere raccontate in un contesto fastidioso. Perché quella roba non la fanno tutti allora? Perché richiede tempo. Richiede tempo, richiede competenze. E questo tipo di costruzione realistica, iperrealismo alla fine, perché dovete capire che nel cinema, nel sound design, il realismo lo tieni con l'iperrealismo, quindi enfatizzando tieni il giusto, va a creare tutta una situazione di contesto che rende molto più facile l'immersività, l'immersione dello spettatore e quindi credere alla storia. Andiamo avanti, vediamo qualcos'altro. Prova quella. Concentratevi su, sul ronzio di fondo. Prova quella. No. Avete sentito com'è cambiato? Clean. Prova quella. Rumble. No. Allora, beh... L'ambiente più grande. L'ambiente che ci stanno facendo vedere davanti è più grande. Non può giustificare un rumore di fondo così lieve. Ha bisogno di essere più grosso, perché un ambiente grande tende ad avere un rumble più basso. Ma sono i dettagli che fanno grandi le cose. Ok, aumenta il riverbero. Andiamo, prendiamo un'altra scena. è stata curata tutta. Ok, scena all'aperto. Oh, cavolo. Anche qui. Ottima gestione di fondali sonori, di neutralità. Non c'è silenzio, ma c'è questa specie di vento filtrato sul basso che tende ad accompagnarti in una cosa del tipo ok, va bene, il mondo sta finendo. Ecco, Rente, io me lo posso immaginare così un mondo che sta finendo. Con quel tipo lì di brusio di fondo. Ragazzi, io voglio tenere questi video corti, quindi diciamo che per questa puntata voglio terminare qua. Quello che volevo che passasse era la cura al dettaglio. Abbiamo visto tre scene senza musica, abbiamo visto tre scene in cui il key point è stata la sovra enfatizzazione del realismo al fine di ottenere un iperrealismo che giustificasse quello che stai guardando. E soprattutto abbiamo notato la layerizzazione. Ok? I layer. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non sapevo esattamente come approcciarlo perché è un format nuovo. Quindi, casomai, ditemi voi che film vorreste vedere nei commenti e spiegatemi sempre nei commenti perché dovrei parlarne in modo che io possa fare un'analisi finalizzata a magari qualcosa di specifico. ditemi tv, serie tv, film, veramente, quello che volete. Andateci proprio giù a randella. D'accordo? Ditemi quello che dovrei vedere e che dovrei analizzare. The Last of Us ci insegna che la musica non è sempre necessaria, che a volte il soundscape è più che sufficiente a creare pathos, che la musica può essere un valore aggiunto nel momento in cui la inseriamo per dare ancora più emozione, per sottolineare un momento e non deve essere sempre presente altrimenti come ogni cosa se c'è sempre smetti di notarla. E ci insegna la layerizzazione ci insegna che non è che se siamo in un ambiente grande devi riverberare tutto a cazzo, probabilmente avrai delle cose asciutte, delle cose mediamente riverberate, delle cose lontane di cui senti solo l'eco. Ci insegna che anche in una serie di zombie io posso sentirmi dentro completamente alla scena se mi accompagni in un ambiente realistico. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi abbia insegnato qualcosa. Vi invito a commentare, lasciare un like, iscrivetevi, è gratis e a me fa tanto piacere e dà tanto supporto. Seguitemi su Instagram e TikTok trovate tutti i link in descrizione. Mi raccomando iscrivetevi al canale e il supporto più grande che potete darmi commentino e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!